Nato in Libano, nel 1961 si trasferisce con la famiglia in Francia, paese in cui il padre, gestore di night club e discoteche, lo introduce nell'ambiente musicale, Patrick inizia l'attività di cantante, formando un proprio complesso insieme al fratello Sussu, chitarra solista. Nel 1963, Patrick Samson and Les Fenicien, incidendo alcuni 45 giri in francese ed esibendosi anche nel 1965 all'Olimpia, si trasferisce in Italia intorno al 1965, portato da un impresario sull'onda dei successi francesi. In breve tempo ottiene un contratto con la ARC, con cui pubblica il primo 45 giri, il genere che il Patrick Samson set. Così il gruppo cambia nome in Italia a partire dal 1967. Propone un RIT HM and Blues con influssi beat. I componenti del complesso sono 9, 4 inglesi ed un francese che completano la band originale. La direzione artistica è di Roger Warwick, sax baritono, reclutato dal fratello di Patrick, Sandy, dal famoso gruppo anglo-americano di R&B Maxound. C'è una sezione di fiati e l'immancabile organo Hammond. Più tardi entrano nel gruppo anche musicisti italiani validi. All'inizio della loro carriera, come il batterista triestino Eurocristiani, che sostituisce Nigel Pegrum, che anni dopo suonerà negli Steli e Span. A sua volta sostituto di Gabi Lizzami. Entrato nel gruppo Ferri, Franco, René, Degni e Gabi, nato dalle ceneri dei New Dada, il saxofonista Claudio Pascoli e i torinesi Guido Guglielminetti al basso e Umberto Tozzi alla chitarra. Nel 1970, solo per la tournée in Libano e il concerto di Torino, entra nel gruppo quale bassista Eugenio Sartini, di Roma. Negli anni successivi Patrick Samson incide per molte case discografiche. La Philips, la Fonit eccetera, la Carosello. Il primo successo è Chi Può Dirmi. Cover di Keep On Running dei The Spencer Davis Group. Già inciso anche dai Poo con il titolo Vieni Fuori. L'anno successivo partecipano al Cantagiro con un'altra cover dei The Spencer Davis Group. Sono un uomo. I.M.A. Men. Il suo più grande successo è Soli si muore. Versione italiana di Crimson and the Clave di Tommy James and the Shondells. Con un testo scritto dai mogolle Cristiano Minellono. Con questa canzone è stato per molte settimane ai primi posti in It Parade. 1969. Ed è arrivato al secondo posto al Festival Bar. Nel 1988 il gruppo veronese degli ACTH ne ha inciso una versione su 45 giri pubblicato dalla ATTAC. Punk Records. Su etichetta Totò alle prese coi dischi Totò cerca moglie. Nello stesso periodo appare anche in alcune colonne sonore. Nel 1969 in la stagione dei Sensi di Massimo Franciosa. In cui canta Laila. Laila e Telme. Telme e nello stesso anno in pelle di Bandito. In cui canta Morire giorno per giorno. Nel 1970 incide in italiano Let It Be. Con il titolo Dille Si. Nel 1995 questa loro versione è stata inserita come brano di apertura nel disco Gli italiani. Cantano i Beatles. Pubblicato dalla Polygram e curato da Vincenzo Mollica. Disco che contiene 18 versioni di canzoni dei Fab Four in italiano eseguite da artisti come. Patti Bravo, Gianni Morandi, Fred Bongusto, Peppino Di Capri, Ricky Gianco, I Camaleonti, I Ribelli, Fausto Leali, I Bittenic, Dino, Gli Shampoo, Claudio Villa e i Power Illusi. Nel 1973 la sua carriera conosce uno stop forzato. A causa di una malattia i remi del fratello Sussu. Patrick si ritira per qualche tempo. Dedicandosi al fratello. E quando riprende l'attività ormai il successo lo ha abbandonato. Nel 1976 Patrick viene scritturato da un impresario pugliese e si stabilisce in un primo tempo a. Siponto. Qui conosce l'attuale moglie Anna dalla quale ha avuto tre figli. Qui rinasce forse per l'ultima volta il Patrick Samson set. Che vede ancora Gabi Robert Lidsmi alla batteria e suo fratello Sussu alla chitarra. Assieme ad Ettore Pannitti come solista. Enzo Melillo al basso. Angelo Palazzo alle tastiere ed il compianto Gino Sannone Relsax tenore. È di quell'anno anche l'incisione di Rivoglio Lei. Cover italiana di All By Me Self di Eric Carmen. Continua poi ad incidere di schifino agli anni 80 e partecipa a programmi revival TV come Bandiera. Gialla. Una rotonda sul mare e i migliori anni. Vive tuttora in Puglia. A Foggia. Dedicandosi all'insegnamento nelle scuole medie. Continuando ad effettuare occasionalmente qualche serata.